Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Firehash, io sono Glacial Sphere ed oggi inizia ufficialmente la Battle Frontier, la stagione 3,5 di Pokémon, essenzialmente nell'anima di Pokémon. La Battle Frontier me la ricordo come una delle saghe più fighe per quanto mi riguarda, mi ricordo molto nitidamente lo scontro tra Charizard e Articuno, quello mi piacque tantissimo. Vi invito quindi a lasciar nei commenti il vostro episodio preferito della Battle Frontier, io purtroppo non me la ricordo tutta, mi ricordo solo quella parte perché l'avevo vista e mi era rimasto colpito comunque da quella parte, molto bella. Mentre voi fatemi sapere cosa ne pensate in generale della Battle Frontier e qual è il vostro episodio, il vostro momento, il vostro scontro preferito. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere appunto quello che vi ho appena chiesto e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che condividere il video per far sconoscere questo gioco che, insomma, sembra anche abbastanza sconosciuto in Italia da quello che ho visto, nessuno di italiano l'ha portato, ha fatto un gameplay su questo videogioco, quindi sarebbe bello farlo conoscere a quante più versioni possibile, quindi condividetelo sui vostri social, consigliatelo ad amici o altri appassionati di Pokémon, chissà mai che anche a loro potrebbe piacere questo gioco. Nel frattempo vi faccio vedere la squadra con cui inizieremo la Battle Frontier. Abbiamo Pikachu, Saptile, Corefish, Charizard, Donphan e Swallow, ok? Sono di livelli abbastanza differenti, anche perché Charizard lo usai a suo tempo per allenare i Pokémon che dovevo avvolgere per il mio Livindex, quindi l'ho tirato su tantissimo di livello. Le battaglie con Charizard saranno abbastanza facili, però cercherò di usarlo almeno possibile a questo punto. Andremo più che altro con questi quattro Pokémon, Saptile, Corefish, Donphan e Swallow, anche se Corefish sarà molto difficile da allenare. A questo punto io direi di dargli immediatamente il condivido esperienza. Adesso riusciamo a prenderlo. Dove sei? Condividi esperienza. Eccoti qua, vai. Andiamo in un bel condivido esperienza. Donphan si è evoluto nello scorso episodio in Donphan, appunto, e a questo punto direi di metterlo come primo Pokémon. Ecco qua. E andare. Andare a questo punto direttamente a Smeraldopoli, ok? Perché il Professor Rock ci ha detto che appunto la Battle Frontier si è aperta accanto e quindi di andarci a fare un giro. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui, eh? Vediamo un po'. Oh! La palestra si è ricostruita, o meglio l'hanno ricostruita e qui c'è Agatha e anche Scott. Scusami, permettimi di presentarmi. Io sono Scott e sto viaggiando ovunque alla ricerca di incredibili allenatori. Più specificatamente sto cercando per... sto cercando degli esperti di lotte Pokémon. Agatha, qui, è un membro dei Super 4, la conosciamo molto bene, l'abbiamo già battuta. Se riuscirai a vincere contro di lei, ti inviterò a partecipare in qualcosa di grandioso. Ok, dobbiamo battere Agatha, eh? Direi di provare con il nostro Pikachu allora. Vai, sarà una lotta Pikachu contro... boh, il suo Gengar magari? Andiamo. Agatha, hello caro ragazzo. Ciao caro ragazzo. Sto agendo come capo palestra temporaneo di questa palestra. Quindi vorresti combattere ora? Bene. Andiamo, combattiamo contro Agatha per iniziare questa Battle Frontier. Lei ha solo un Pokémon e l'ha solo Gengar. Ok, è a livello 50, quindi già si inizia a fare sul serio, eh? Andiamo di Thunder Punch. Gengar non dovrebbe avere molta difesa, quindi purtroppo lo one-shotiamo. Meglio purtroppo per lei, meglio per noi. Verrà che forte per essere un ragazzino. E vinciamo pure dei soldini. Ti sei... hai combattuto molto bene. Sono sicuro che farai... I'm sure you will do well against permanent gym leader. Sono sicuro che farai bene contro anche il capo palestra permanente, perché lei è quella temporanea appunto. È stato eccellente ragazzo, vieni qui. Hai del potenziale, e anche tanto. Ti darò la chance di gareggiare nella Battle Frontier. Ecco, prendi questo e otteniamo il Frontier Pass. Il Frontier Pass, anzi la Battle Frontier, è composta da sette allenatori fortissimi attraverso tutto accanto. Riuscirà a batterli tutti? Certo che sì. Quindi, a questo punto, il primo allenatore è a Cerulean City. A Cerulean City. O meglio, proprio qui sopra, vedete, Battle Factory. Probabilmente sono queste le zone, Battle Dome, Battle Arena, Green Jail. No, questa è la città... è la centrale elettrica, l'abbiamo già trovata. Quindi uno è qui sicuramente, l'altro è qui al Dojo. Oppure no, questo è fuori dal Dojo, la Battle Arena sarà un altro. Tu sei qui, Battle Dome, e siamo a tre. Uno sarà nel Dojo di Saffron City, siamo a quattro. Uno è qui alla Battle Tower, e siamo a cinque. Qui c'è la Battle Pre-Ride, e siamo a sei. Ne manca uno, vediamo dove sarà l'ultimo. A questo punto però andiamo a Cerulean City. Andiamo qui nel Cerulean City, ci aveva detto il professor Oak di andare qui, se vi ricordate. E prima di andare però a cercare il nostro sfidante alla Battle Factory, possiamo fare un rematch contro Misty. E perché non farlo, quindi? Andiamo a cercare Misty. Oh, bello! Ci sono Geridos, Luvdisk, Politeod, Corsola, sono i po' con i Misty, che girano in giro per la palestra, bella sta cosa. Ecco, Corsola si è messo lì e mi ha bloccato il passaggio. No, rimariamo qui per sempre. Corsola, vattene per favore. Dai, 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 Corsola. Grazie, ok. Ora ci blocca tipo dentro per sempre. Andiamo con Saptile prima. Cioè, usiamo Saptile in questa battaglia, dai. Andiamo. Salve Misty. Grazie, cosa stai facendo qui? Oh, interessante. Sto diventando una capopalestra al posto delle mie sorelle. Vuoi testare la mia forza come leader, come capopalestra? Ma certamente sì, caro Misty. Certo che sì. Contro Goldin dovrà combattere a livello 50. Beh, i livelli sono giusti. Se vedete il mio Saptile, che era il Pokémon più forte di Owen, è al 51. Quindi niente male. Allora, Gyarados, a questo punto possiamo cambiare Pokémon. E proviamo a mandare contro Gyarados o Gyarados. Sono deciso tra Donphan e Swellow. Penso che entrambi faranno male, però mandiamo Donphan. Proviamo a vedere come se la cava. Il nostro nuovo Pokémon. O meglio, il nostro Pokémon vecchio che si è appena evoluto. Ah, minimisce l'attacco però. Andiamo di Rockslide. Ok, Dropompa fortunatamente fallisce, però come vedete non riuscirà mai a batterlo lui. Quindi direi di mandare Pikachu. Andiamo Pikachu contro Gyarados. Ci userei Dropompa addosso, molto probabilmente, però fallisce un'altra volta. Grande Gyarados, uno di noi. Andiamo di Electrowall. Almeno abbiamo fatto combattere anche un po' il nostro caro Donphan. Ok, Staryu. Rimandiamo a questo punto Swellow. Mandiamo Swellow così che prenda un po' di punti esperienza. Eccolo qui. E andiamo con Volo. Rapid Spin, ok. Ma però, forte Staryu. Beh, è anche 5 livelli sopra, eh. Però, insomma, esso ne è evoluto, lui no. Ok, dopo useremo Attacco Rapido e Swellow se la porterà a casa. Dovrei insegnare il ritorno a Swellow. Ok, Katherin è... non mi ricordo chiama, è sicuramente un po' come di tipo Acqua. Potrebbe essere Corsola, forse. Potrebbe essere Corsola? No, Lugdisk. Ok, allora avrei potuto lasciare anche l'altro. Debolissimo Lugdisk. Avrei potuto lasciare Swellow, prendersi un po' di punti esperienza gratis. Politeod, ecco, no. Politeod invece è molto più temibile come Pokémon. Ha un attacco speciale molto alto. Andiamo di Leaf Blade e tiriamolo giù. Buono. Level 52 per il nostro Sceptile. Ed infine Azuril. Lasciamo ancora Sceptile. E andiamo di Energy Ball. Ecco fatto. Beh, non sei molto forte come capopalestra. Com'è che continuo a perdere? Si chiede. Eeeh. Corfish non si può evolvere purtroppo. I've taken over as Gym Leader, so I'm going to be around here from now on. Ok, è diventata la capopalestra, quindi sarà qui in giro d'ora in avanti. A questo punto possiamo andare a curarci Pokémon. Ecco, ho fatto una curetta veloce. Sempre meglio sostare al centro Pokémon quando ci si passa. Poi mettiamo avanti qualche altro Pokémon, eh? Mettiamo avanti tipo appunto Doofan. Portiamoci Corfish comunque, anche se sarà abbastanza inutile. E andiamo a vedere se riusciamo a trovare l'accesso alla Battle Factory. Vediamo se è qui in giro da qualche parte. Lì non possiamo usare surf, vi ricordo. Qui non sembra esserci. Beh, sarà dall'altra parte, non penso che sia di qui. Anche se appunto nella mappa è... anche perché nella mappa è segnato di qui. Adesso possiamo passare ora. Ok, qui c'è un passaggio. Qui non possiamo passare, giusto? Ah no, ok, possiamo passare qui sopra alla Battle Factory. Perfetto. Però possiamo prendere anche questo strumento. Un Life Orb. No, non è male. Non è male. Si può usare in qualche modo. E già che ci penso, ora posso dare degli strumenti. O meglio, uno strumento al mio Don Fan. Quindi cerchiamo la Soft Sand, se ce l'abbiamo. Che potenzia le mosse di tipo terra. Potenzia il suo bel terremoto. Eccola qua Soft Sand. Vai. Give a Don Fan. Perfetto. E siamo pronti per entrare nella Battle Factory. Eccoci qui. Vai. Vediamo... oh, primo poco conservatico. Vediamo chi incontriamo. Ah, un Geodude. Ok. A livello 35, quindi nemmeno così... così forte, eh. Qui non c'è uno strumento invisibile. Tu sei una neatrice? Don't think it will be easy. Vediamo a che livello sono gli allenatori qui. Psychic Mal. Natu. A livello 44. Ok. Andiamo di Rock Slide. Buono. Tiramolo giù. Poi Grampig. Tipo Psycho. Lasciamo Don Fan. Lasciamo Don Fan e usiamo un Heartquake. Power Jam. Ok. Non ci fa molto. Invece il nostro... arrest addirittura. Ok. Si recupera gli HP. Il nostro terremoto li ha fatto parecchio. Andiamo ancora di Heartquake. Ah, c'è a russare lui. Ok. Giustamente. Don Fan a livello 48. Beldum. A questo punto possiamo cambiare Pokémon. Direi di sì e mandare Swellow. Vai, mandiamo lui. E andiamo di... ah, Beldum. No, mi sono confuso con Brilum. Pensavo fosse Brilum. Perché ho mandato Swellow? Sono... vabbè. Mandiamo a questo punto. Lui è di tipo metallo. Acciaio, ma ho ancora questo metallo. Ma andiamo da Don Fan ancora. Tiriamo di un terremoto sperando che lui non abbia levitazione. Bettecol non ci fa nulla. Andiamo di Heartquake. Ok. Non ha levitazione. Perfetto. Addio. E non ha nemmeno vigore. Ottimo. Poi chi mandi? Medicham. Ecco, tu invece sei di tipo Lotta e mandiamo il nostro Swellow. Tipo Lotta Psico però, se non ricordo male. Quindi non è nemmeno super efficace il nostro attacco, il nostro volo. Però lo usiamo comunque. Reversal. Va bene. Ah no, super efficace. Ok, allora non è Lotta Psico. Niente, ci ha tirato giù con un contrattacco micidiale. Andiamo di Corfish, allora. Vai Corfishino. Attaccala con Break Break. Vabbè, cioè, ok. Corfish si rivela tipo impossibile da utilizzare. Mandiamo allora il nostro bel Don Fan. Usiamo Flail. Acupressure, va bene. Ok, abbiamo battuto Mei. A questo punto ragazzi, torno un attimo a curarmi i Pokémon perché mi hanno disintegrato. Va bello Growlit. I Pokémon però sono di livello molto basso qui. I Pokémon selvatici, come vedete. Non sarà molto facile allenarsi qui. Bello Arcanine però. Beh, Arcanine, insomma, un po' di punti esperienza, ma ridà se lo tiro giù, eh. Lo usiamo in Earthquake, tiriamocelo giù e prendiamoci questi punti esperienza, succose, ecco. Appunto, sto tornando al centro Pokémon anche perché voglio far finire qui questa parte. Voglio concentrarmi poi nella prossima parte solamente nella Battle Factory per non iniziare a dividere male gli episodi. Non voglio fare metà Battle Factory in questo episodio, metà nel prossimo e nel prossimo iniziare a metà della zona successiva. Preferisco fermarmi qui così da concentrarmi nello prossimo episodio solamente sulla Battle Factory e sullo scontro molto probabile tra Charizard e Articuno, quindi non perdetevelo. Però a questo punto il video, pur essendo un po' più corto degli altri, finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video! Grazie a tutti!